In questo nuovo video sono il vostro MrBistecca e oggi raga come ogni settimana siamo qua per andare a trovare insieme la nuova stellina segreta Per in questo caso è venente della settimana 4 stagione 5 Come sempre dovrete completare le sfide della settimana, queste qua Sbloccherete la nuova scremata di caricamento, in questo caso Paradiso in piscina E se ci fate caso nel muro in fondo potete vedere una specie di dinosauro gigante Che beve da una cannuccia con sopra la stellina Ed eccolo qua il nostro amico dinosauro, andiamo a prendere dunque la stellina che si troverà sul suo dorso E la zona di mappa è questa qua giù a sud